Roberto Calari, la parola. Molte grazie per la possibilità di esprimere alla Commissione le valutazioni fatte dall'Alleanza Cooperativa Italiana e Comunicazione che rappresento in questa sede e che presiedo. E ovviamente anche la possibilità di esprimere alcune delle valutazioni che abbiamo poi avuto modo di inviare nei giorni trascorsi ai membri della Commissione per poter capire quali sono alcune osservazioni che partendo da valutazioni positive comunque dell'Iter che le due proposte di legge introducono di riforma del sistema editoriale ci fanno pensare che sia anche importante cominciare a entrare nel merito e provare a definire quali sono alcuni punti critici o elementi che possono però costruire rapidamente un percorso che possa arrivare il più rapidamente possibile a una riforma da molto tempo auspicata che ovviamente insieme peraltro nello stesso tavolo dell'editoria che è stato convocato nei mesi scorsi dal sottosegretario Locri del Dipartimento per l'Informazione Editoria della Presidenza del Consiglio abbiamo sperato potesse essere una riforma più complessiva dell'intera filiera dell'editoria ovviamente però sapendo quali sono temi difficoltà problematiche importante è procedere comunque rapidamente con una parte di questa riforma soprattutto con la costituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione che rappresenta comunque un punto di svolta molto importante e che può rappresentare sicuramente anche l'opportunità di avere in comune tra tutte credo le associazioni che sono attorno a questo tavolo il tema come sempre non solo di affrontare una crisi drammatica significativa più che significativa che attraversa tutto il settore nella sua ristrutturazione rispetto ai processi di innovazione di cui avete parlato hanno parlato anche gli esperti avete parlato anche nelle audizioni precedenti che abbiamo seguito con grandi interesse ovviamente ma per affrontare il tema della come rilanciare questo settore che è un settore fondamentale sia dal punto di vista industriale sia dal punto di vista soprattutto del pluralismo della libertà dell'informazione e quindi del garantire e dall'altro anche dell'occupazione perché l'altro grande tema evidentemente è che qui c'è molta occupazione importante qualificata che fa parte anche di quei trend di occupazione fra l'altro importante significativa anche come concentrazione in un paese e credo che questo sia l'altro elemento che è importante sottolineare in questo percorso. Ovviamente parlando di fondo per il pluralismo e l'innovazione nell'informazione come abbiamo avuto modo di dire in più incontri informali che abbiamo avuto con sia con i proponenti diciamo anzi ci ripromettiamo di approfondire anche con i proponenti poi direttamente in interlocuzioni anche dirette alcune delle tematiche poste nelle due diverse proposte di legge ma ovviamente una delle preoccupazioni e degli elementi principali che questo fondo così come delineato nelle due proposte di legge fondamentalmente integra e aggrega delle cose fra loro anche relativamente diverse differenti anche se tutte all'interno di un unico grande tema che è quello dello sviluppo dell'editoria come quello del fondo straordinario per l'editoria e del contributo diretto all'editoria e della innovazione delle nuove imprese evidentemente aspetti che aumentano l'impegno e la necessità anche di risorse ovviamente adeguate perché un disegno di questo genere possa essere ampiamente avere una pratica attuazione e anche una consolidata linea di sviluppo nei prossimi anni sono tutti questi elementi questi elementi sono per diverso aspetto elementi importanti che compongono quindi un quadro importante evidentemente per quello che ci riguarda ci concentriamo molto di più in questo momento capendo che ci sono anche degli elementi che sono stati anche oggetto di riflessione in queste settimane comunque importanti anche per quanto concerne la prima parte quello del fondo straordinario sull'editoria che riguarda evidentemente come nel modo più chiaro trasparente e virtuoso possibile i processi in atto siano processi finalizzati a creare lavoro sviluppo e prospettiva non a utilizzare impropriamente risorse pubbliche per operazioni di macchiali che non producono ovviamente risultati di occupazione di reddito qui mi limito a questo sapendo che però un tema rilevante importante che fa parte appunto di politiche del lavoro che cercano di traguardare comunque dei risultati di consolidamento in questo settore nella parte poi anche diciamo anche dimensionalmente molto significativa anche nel paese del lavoro in questo settore ma ovviamente a noi preme molto parlare e sottolineare l'aspetto che riguarda il contributo diretto all'editoria e l'innovazione due elementi che ci premono direi anche se in me abbiamo l'urgenza delle conseguenze determinate da quanto sono drammaticamente state tagliate o sono calate comunque le risorse per contributi negli ultimi anni in particolare nel 2013 e nel recentissimo 2014 voi sapete anche le conseguenze drammatiche che si sono determinate con questi tagli no qui noi lasceremo poi o invieremo ai membri della commissione anche un'analisi molto veloce che abbiamo fatto su cosa ha significato in termini di quantità e di cambiamenti non solo di quanto cioè sono diminuite negli ultimi anni drasticamente le risorse ma anche di che conseguenze hanno avuto al di là di altri fattori come dire a volte determinati anche da incapacità di andare quelli sono altre tematiche ma quando le chiusure sono determinate fondamentalmente da come dire dinamiche che determinano esposte degli interventi non attesi dell'intervento pubblico che non vengono erogati e comunicati nei tempi e nelle priorità più opportune come avvenuto soprattutto nel 2013 voi capite bene che il tema è veramente rilevante l'abbiamo rilevato in campagne anche di informazione all'opinione pubblica sul tema del pluralismo che hanno evidenziato comunque come questo fosse un tema rilevante ma crediamo che avere questa questa fotografia di cosa è cambiato anche nella parte che ricordo rappresenta l'alto 50 per cento in termini di coppie distribuite vendute in Italia perché se noi mettessimo insieme tutto quella che consideriamo editoria appunto locale territoriale eccetera e la sommassimo e la confrontassimo con quello che vendono le grandi testate giornalistiche quindi Corriere Repubblica avremmo una dimensione di numero di coppie complessivamente distribuite nell'arco dell'anno e vendute nell'arco dell'anno che comunque è molto significativo quindi che vuol dire che è l'altra metà dell'informazione italiana comunque già oggi è anche di più, sì, adesso l'ho fatto per difetto perché a seconda se prendiamo il dato distribuito o venduto insomma possono esserci dei cambiamenti su questo però credo che sia importante avere quest'idea perché quando dicevo che per noi mettere insieme pluralismo cioè nel fondo del pluralismo mettere insieme tutela e certezza del percorso che va verso il sostegno al contributo diretto all'editoria secondo regole certe e chiare su cui ritorno brevemente subito dopo e l'innovazione lo dicevo proprio in questa chiave cioè l'Italia è un paese che non è solo il paese dei campanili il paese in cui fortunatamente l'informazione e l'avere più di un giornale a livello locale un giornale, oggi un giornale, un domani, oggi un giornale, un giornale online un giornale di carta e più giornali online l'importanza di avere pluralismo dell'informazione locale è fondamentale queste chiusure stanno determinando il fatto che in tanti territori italiani c'è una voce sola se va bene, c'è una voce sola che si riceve, si ascolta, si legge, si vede cioè quindi è fondamentale per la democrazia che le voci siano di più più d'una, siano confrontabili e che ci siano quindi le condizioni perché questo avvenga, credo che uno dei punti di partenza delle due proposte di legge sia proprio quella che noi affermiamo insieme alle altre associazioni credo da molto tempo cioè che non è ovviamente solo il mercato che può determinare questo soprattutto in territori di dimensioni particolari o comunque in dimensioni anche sociali, culturali eccetera che non hanno sempre le masse critiche sufficienti per poter fare progetti industriali come dire al netto di una contribuzione di un intervento pubblico che sia in qualche modo tale e sufficiente per garantire degli aspetti anche di piani industriali che sempre piani industriali sono, anche questo lo chiariamo ma che nascono nei nostri casi dal non avere scopo di lucro cioè non avere finalità diciamo di divisione di utili di nessun tipo che sono vincolate come editori puri quindi non condizionabili in nessun modo non scalabili da condizioni che sono assolutamente fondamentali nel momento in cui si usano risorse pubbliche e che evidentemente richiedono rigore, trasparenza, controlli sempre più e su questo non ci stancheremo mai di dire che proprio perché non ci sia confusione né nell'opinione pubblica né nell'ambito giusto del compito del Parlamento di indirizzare e della magistratura di vigilare che noi vogliamo assolutamente il massimo rigore e trasparenza cioè diciamo da questo punto di vista non abbiamo paura di dire non ce n'è mai abbastanza anche se è certo che il rigore e la trasparenza soprattutto in ambiti che sono ambiti come dire di cooperative di giornalisti autogestite che ci mettono del proprio che non hanno controlli di nessuno sono ovviamente onerosi da un punto di vista anche procedurale delle pratiche della trasparenza ma è fondamentale che sia così è sempre più così anche per sgomberare qualsiasi elemento e per capire perché mi pare anche nella discussione precedente si dica che la forma cooperativa non è di per sé l'elemento non è l'unica forma giuridica possibile in astratto ma in questo caso è sicuramente la forma giuridica più vicina a interpretare il bisogno che ci siano quegli elementi di editore puro di non scalabilità di controllo democratico di non interessi terzi ma di interesse diretto solo dei lettori e dell'attività specifica del giornale per cui si lavora che è un elemento importante ovviamente di fianco quelle esperienze di realtà no profit che di nuovo però hanno dei vincoli che sono molto precisi e che a fronte di vincoli minori dal punto di vista proprietario diciamo così di chi è diciamo dal punto di vista dell'editore puro uso questo riferimento per farmi capire hanno però avuto non a caso delle dinamiche di intervento pubblico anche dopo le riforme del 2012 hanno avuto degli elementi di come dire sottolineatura di una specificità che a fronte di minori doveri aveva ovviamente dei riconoscimenti diversi quindi da questo punto di vista anche lì ci può essere un percorso che va verso maggiori doveri e maggiori oneri quindi stessi diritti stessi doveri però in quanto di nuovo gli stessi doveri siano anche la forma giuridica l'indipendenza l'editore pura non siano cioè degli elementi che lasciano confusione da questo punto di vista che sia qualcun altro a poter indirizzare a governare dei processi che invece si basano su elementi di questa natura e su questo però c'è un terreno di confronto perché il pluralismo è importante che sia come dire il più largo possibile che interpreti le diversità in modo più adeguato però è importante che queste distinzioni siano fatte salve ovviamente rapidissimamente perché devo lasciare posto ai miei colleghi nell'economia di un'audizione come questa dico anche che per nel merito di alcune questioni che noi abbiamo poi sottolineato nel documento quindi per non dire visto che gli articolati necessariamente di ogni proposta di legge sono abbastanza complessi anche da riferire per cui dovrei dire comma 1 articolo 1 lascio stare per un momento ecco ci limitiamo allo scritto però dico sottolineo solo che su alcuni di questi elementi in particolare il primo che voglio prima ancora scusate solo l'affermazione che è la più importante ovviamente se no entrare nel merito di questo diventa anche come dire quasi è il tema della legge di stabilità e delle risorse destinate a questo progetto di riforma perché qui siamo in commissione cultura e ci capite bene perché avete discusso in diverse occasioni anche recentemente su altre parti del mondo dell'informazione per capire che posizioni assumere e richiedere anche l'intervento nella legge di stabilità oggi noi vediamo nella legge di stabilità un meno 43 sulla voce specifica che riguarda questa voce del dipartimento editoria stiamo discutendo due proposte di legge e un percorso che deve andare immagino in Parlamento a discutere quindi un'ipotesi del fondo per 5 anni abbiamo come dire se traguardiamo il 2015 il 2016 noi le risorse non le abbiamo perché ci sono 99 milioni destinati oggi alla voce specifica 20 per il fondo straordinario se li vogliamo sommare uno è il fondo straordinario ed è destinato a quello i 99 in realtà sono 50 per il mutuo orai poi se volete vi posso dire tutto ora ma lo sapete meglio di me alla fine non c'è niente per il contributo di rete editoria praticamente quindi se stiamo ad oggi nel 2015 siamo di nuovo in una situazione ahimè delicatissima che è avvenuta negli anni precedenti ecco quindi su questo credo che ci sia l'impegno a fare come come solo titolo perché poi davvero finisco ci sono alcune questioni che abbiamo visto come il 7 bis in particolare che nella proposta di legge primo relatore Coscia si tende a pensare che debba essere superato in qualche modo forse c'è da ragionare per migliorare il percorso in termini di dettaglio però lo spirito ha consentito e consente oggi sempre nella trasparenza e nella chiarezza che ci deve essere però di consentire anche degli elementi di rinascita di lavoro di crescita di lavoro in questo settore c'è il tema dell'innovazione delle piattaforme innovative su quello noi crediamo che sia importante realizzarlo e sta neanche nelle associazioni promuovere questo elemento ma è importante ovviamente tenendo conto che l'innovazione non è ma lo diranno altri miei comedici non è a discapito carta o digitale il futuro lo vedremo ma sicuramente l'importante è che si tenga a compito di entrambi questi fattori del come possono peraltro interagire anche in prospettiva sempre più fra di loro anche grazie all'innovazione tecnologica non terremo la distinzione terremo la distinzione ma manterremo la distinzione fra nazionale e locale nel senso che ci sono delle differenze poi anche lì si può entrare più nel merito ma perché ci sono differenze di costi oggettivi fra questi due momenti dimensionali visto che la norma del 2002 già sancisse abbastanza precisamente quali sono le differenze quali criteri questi giornali se sono nazionali se sono locali devono avere e ovviamente poi diranno i miei colleghi su altre questioni che sono rilevanti ai fini anche di poter avere un intervento l'unico che cito perché forse i miei colleghi su questo per le cose che vi abbiamo anche scritto non sono sufficientemente sottolineate le altre le trovate anche nel documento è solo il tema scuola educazione alla comunicazione educazione di informazione io credo che ci sia un incrocio virsuoso e lo dico in questa commissione volutamente anche fra il tema della buona scuola del progetto che cosa sta andando avanti da questo punto di vista anche degli obiettivi che si pone quella normativa e nello stesso tempo quel percorso di educazione e la comunicazione che tante nostre realtà hanno iniziato in questi anni nel rapporto con le scuole con gli studenti per formare l'educazione quindi non è solo il tema della diffusione del favorire la diffusione dei giornali online e diciamo noi anche carta stampata nelle scuole ma è qualcosa di molto di più può essere favorire nella normativa capire se ci può favorire anche un percorso di rapporto con le scuole per l'educazione e la comunicazione mi sembrerebbe una cosa importante anche per il futuro grazie grazie a tutti